Ok, un minuto e iniziamo. Ok. Abbiamo 63 iscritti, vediamo se nei prossimi minuti ci raggiungeranno. Comunque noi insomma iniziamo tra poco per rispetto verso chi è collegato in orario. Grazie. Grazie. Tommaso ci sei? Sì, sì, eccomi. Ok, allora se vuoi attivare la webcam direi che possiamo iniziare. Ok, perfetto, grazie Tommaso. Bene, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del progetto Pallades. Progetto che come alcuni di voi sapranno impegna ben 15 comuni della Pede Montana e che ha come obiettivo quello della valorizzazione e della diffusione delle tecnologie digitali. Nei precedenti incontri abbiamo parlato di tematiche molto diverse. Tra loro si è parlato di transizione 4.0, di open data, di tecnologie emergenti come la blockchain e l'intelligenza artificiale. Oggi parleremo invece di qualcosa di più concreto, ovvero di come il digitale può aiutarci ad essere più resilienti. E lo faremo con un progetto bellissimo dal mio punto di vista, il progetto Biasa, un progetto dal forte contenuto sociale che intende supportare i piccoli esercizi locali, ma non solo, che purtroppo sono stati in questo periodo maggiormente colpiti dalla crisi pandemica. La piattaforma Biasa, quello vedremo tra poco, permette a tutte le attività del territorio di evolversi e di abbracciare questo cambiamento, intercettando quindi nuove esigenze di consumo. Prima di cedere la parola a Tommaso Zandinella, che è uno dei fondatori del progetto, ma non l'unico, giusto Tommaso? Esatto, esatto, assieme al mio socio Marco Giusto. Ok, volevo ricordare prima di cederti la parola agli ascoltatori che daremo la possibilità di rispondere alle domande, ma comunque cogliete l'occasione per utilizzare la chat se volete porle anche durante la presentazione e poi magari alla fine ci riserviamo uno spazio anche per delle domande da fare a voce. Quindi per il momento i vostri microfoni saranno disattivati, ma successivamente possiamo anche provare di aprirvi. Non voglio rubare ulteriore tempo alla presentazione, quindi Tommaso a te la parola e buon ascolto a tutti. Grazie, grazie mille Matteo per le belle parole e per aver colto quello che è appunto la potenzialità di questo progetto. Progetto che tu conosci appunto bene perché ti abbiamo presentato e tu ci hai aiutato e ci stai aiutando con il Digital Innovation Hub a promuovere attraverso questi eventi. Adesso io vi condivido il mio schermo. Allora, questo intervento sarà sostanzialmente diviso in due parti. La prima parte dove andremo a capire il contesto in cui si inserisce questo progetto e il perché questa può essere non la soluzione che va purtroppo a sollevare tutte le attività da questa grande crisi che ormai si porta a diversi anni, ma che può dare un po' di speranza soprattutto rivolta verso il futuro. Quindi aiutando i titolari sia chi non ha esperienza, sia chi invece è già magari più strutturato, quindi ha già delle competenze digitali o già si è affidato magari a un'agenzia per portare la sua attività online, ad evolversi, a proporsi non solo ai cittadini del suo territorio, ma anche appunto a tutti gli utenti del web. Quindi dicevo, la prima parte sarà, vedremo qualche slide per capire il contesto dove ci inseriamo, nella seconda parte ci sarà molto operativa perché vi mostrerò praticamente come funziona questa piattaforma e questa applicazione e come portare la vostra attività online anche senza appunto l'aiuto di un esperto programmatore, ma semplicemente con delle competenze base, quali un utilizzo di WhatsApp o un utilizzo di social media, giusto per capire il livello di competenza necessario, oppure poi vedremo dopo anche magari con il nostro aiuto. Quindi sarà una seconda parte prettamente operativa dove io creerò assieme a voi un'attività di prova sostanzialmente dentro la piattaforma e così vedremo tutti i vari passaggi che servono e quello che poi spero facciate voi una volta appunto terminata questo intervento, questa riunione. Come dicevo, volevo iniziare in realtà dal futuro, cioè dalla fine solitamente di come si cominciano le presentazioni, cioè da quello che dobbiamo aspettarsi per il futuro. Allora, entro il 2024, a livello mondiale, una persona su tre acquisterà online e quindi parliamo di 2,14 miliardi di persone nel mondo. Entro il 2040 addirittura il 95% degli acquisti saranno facilitati dal commercio elettronico e questo possiamo capire che è qualcosa che andrà e che sta completamente rivoluzionando quello che è il retail in questo momento. Venendo un po' più vicino a noi invece, quindi entro l'anno prossimo, le vendite di beni globali di largo consumo varranno ben 400 miliardi di dollari e venendo ai giorni nostri invece, un utente in media spende 488 dollari online. Questi sono già qualcosa che dovrebbe farci riflettere, ma adesso vediamo come la situazione sia ancora diversa e ancora più proiettata verso il futuro. Venendo sempre al sistema mondiale, dentro queste bilanze, voi vedete la penetrazione dell'e-commerce sul settore, sul totale del settore retail. Cosa vuol dire? Vuol dire quanti acquisti vengono fatti online rispetto al totale degli acquisti di prodotti B2C, quindi al cittadino, totali. Quindi vediamo che in Cina ogni anno, anzi nell'ultimo anno, ben un acquisto su quattro praticamente, perché il 24% degli acquisti viene di beni, viene fatto online ed è un numero spaventoso. Questo valore dall'anno precedente è stato in crescita del 16%. Negli Stati Uniti un acquisto su cinque di prodotti viene effettuato online e questo totale dall'anno precedente è cresciuto del 18%. La situazione europea è una situazione diciamo un po' più simile a quella, se vogliamo, italiana, che poi vedremo dopo. Quindi un 13% degli acquisti di prodotti, stiamo parlando, viene effettuato online. Ma il tasso di crescita è comunque pari a quello degli Stati Uniti d'America e superiore a quello cinese, quindi si parla di un più 18% anno. Ecco, il totale, per capire un po' di che numero stiamo parlando, il totale delle miliardi di fatturato dei prodotti venduti online è di 2.582 miliardi, di media in crescita del 16% anno. L'Europa però non si muove tutta allo stesso modo e tutta la stessa velocità. Infatti all'interno dell'Europa, ad esempio, lo Stato che è più digitale, più pronto, diciamo già, verso il mercato online dell'e-commerce, sono gli UK. In UK abbiamo un tasso di penetrazione, quindi, dell'e-commerce sul totale retail, che è quello che vedete appunto dentro appunto questa bilancia, del 23%. Qui sostanzialmente anche in UK quasi un acquisto su quattro viene fatto online. Germania e Francia, invece, più o meno un 14-15% degli acquisti totali di prodotti viene effettuato online. Il tasso di crescita in questo caso, però, è leggermente superiore a quello degli UK e sta sul 16-17%. Come dicevo, non tutta l'Europa si muove alla stessa velocità. Infatti, Italia e Spagna, come poi vedremo nel dettaglio, sono gli Stati che sono un po' più sostanzialmente indietro a questo punto di vista. Infatti, il totale dell'e-commerce vale solo l'8% sul totale delle vendite e degli acquisti. Ma, attenzione, perché il tasso di crescita di questa penetrazione dell'e-commerce è il più alto d'Europa. Infatti, in Italia, da un anno rispetto a quello successivo, è cresciuto del 31% questo numero. E in Spagna è del 23%. Quindi, sostanzialmente, entro pochi anni andremo a raggiungere gli altri Stati europei. Quindi, è un settore veramente, veramente in grossa crescita. In Europa, che è leggermente più indietro, come abbiamo visto, rispetto agli Stati Uniti e Cina, ma anche in Italia, che è leggermente più indietro rispetto a Germania, Francia e UK, ma sta recuperando, come abbiamo visto, in modo molto, molto più veloce. Non si può, purtroppo, dire essa cosa del settore dei servizi. Il settore dei servizi era un settore che, prima degli ultimi anni, trascinava e trainava il mondo degli acquisti online. Basti pensare ai viaggi, ai ticket degli eventi. Chiaramente, nell'ultimo anno, è il settore che più di tutti gli altri ha maggiormente subito questa crisi. Crisi che, sappiamo, è stata portata a causa della riduzione, delle limitazioni della mobilità, e quindi al crollo del turismo, al crollo degli eventi. E questo, diciamo, ha portato, chiaramente, il settore che, prima, era molto più sviluppato rispetto alla vendita dei prodotti, in grossa crisi. Vediamo all'Italia, adesso. Quindi abbiamo parlato della situazione futura del mondo, della situazione mondiale, europea. Adesso capiamo bene, noi come siamo messi, abbiamo visto un po' di dati, ma capiamo bene com'era la posizione dell'Italia prima del Covid, e quella che è, invece, adesso. Allora, prima del Covid, sostanzialmente, il problema per cui la penetrazione delle vendite dell'e-commerce rispetto al totale era molto bassa, anche rispetto al resto d'Europa, era principalmente, riguardava tre fattori, sostanzialmente. Il primo era le competenze digitali. Sappiamo che, storicamente, l'Italia di media ha una capacità di utilizzo di questi strumenti che è inferiore rispetto al resto d'Europa. Quindi, diciamo, le competenze digitali non erano così avanzate come il resto d'Europa. Ma anche l'offerta da parte dell'attività che, nonostante, chiaramente, i passi avanti che sono stati fatti, soprattutto, appunto, nel mercato dei prodotti, era ancora in fase retrata. Era un'offerta che era limitata spesso ai grandi player, quindi quelli che potevano permettersi di strutturarsi per l'online. Il terzo tema, che è un tema storicamente, praticamente italiano, era quella del fatto che noi, come italiani, eravamo molto legati al tema dei contanti. Quindi, lasciando, appunto, da parte ogni commento, però, chiaramente, un po' di diffidenza sull'uso della carta e un po' ancora essere legati al mondo del contante, questo era qualcosa che non, diciamo, faceva esplodere quello che era il mercato dell'online prima della pandemia. Purtroppo, come sappiamo, nell'ultimo anno e mezzo, l'ultimo anno, c'è stata questa pandemia che ha sconvolto quello che è lo scenario. Non solo l'ha cambiato, l'ha proprio sconvolto. Il mercato di e-commerce abbiamo visto, e vedremo, che ha registrato una grossissima crescita con dei picchi importantissimi, soprattutto nei prodotti, e soprattutto poi nell'alimentare. E ha messo di fronte tutte le aziende a il dato di fatto che essere online non era più solo un'opzione, qualcosa da valutare, un investimento da valutare, ma era una strategia chiave ormai per non solo lo sviluppo del proprio business, ma anche per mantenere il proprio volume d'affari. Infatti, una ricerca netcom ha visto, ha, diciamo, studiato come il 97% delle attività che già prima della pandemia vendevano online, durante la pandemia, durante la prima settimana, addirittura ha visto aumentare il numero di clienti. Quindi, chiaramente, le attività che erano già strutturate hanno avuto meno svantaggi, diciamo, di quelle che purtroppo non erano assolutamente strutturate per porsi verso il mercato online. Oggi è, chiaramente, completamente modificata la situazione, ma perché questo? Perché è completamente modificato l'approccio online del cittadino. Il cittadino consumatore oggi è veramente impegnato 24 ore su 24 verso l'online. Basti pensare ormai allo smart working, la didattica a distanza per le scuole, alle riunioni in streaming come stiamo facendo noi adesso. E, diciamo, in questo contesto, non solo sono aumentate, è aumentata la frequenza degli acquisti online da parte di chi già utilizzava questo strumento, ma sono cadute tutte le barriere, quindi quelle che vedevamo prima, la barriera contante, la digitalizzazione, quelle che appunto abbiamo visto prima, legate al mercato dell'online. Perché questo? Perché la terza barriera che era l'offerta da parte delle attività commerciali è chiaramente aumentata, perché hanno preso coscienza di questo cambio di scenario e chiaramente l'offerta è aumentata. Questo chiaramente ha dato il via libera a queste soluzioni. Una di queste soluzioni è quella che noi vedremo oggi, questa piattaforma di solidarietà che si chiama Biasap, che poi andremo appunto a studiare e capire nel dettaglio. Questo è molto interessante, adesso so che tra voi ci sono molte attività economiche e è importante capire, abbiamo visto che il mercato italiano dei prodotti è aumentato del 31%, ma non tutto allo stesso modo. Ci sono dei settori che sono aumentati ovviamente più di altri, come il settore del food, che è aumentato del 70% rispetto all'anno precedente. L'informatica elettronica ha visto un più 20% rispetto all'anno precedente, l'abbigliamento un più 22%, l'arredamento e home living un più 32% e l'editoria un più 18%. Sostanzialmente tutto quello che appunto riguardava gli acquisti di prodotti, stiamo parlando sempre del mercato italiano, dell'e-commerce, ha visto chiaramente un'esplosione. Un'esplosione per un mercato che adesso vale 23,4 miliardi di euro e appunto come dicevamo prima ha visto un aumento su base annua del 31%. Nonostante la penetrazione del mercato rimanga sempre dell'8%, quindi gli acquisti di prodotti valgano sempre l'8% rispetto al totale degli acquisti effettuati in Italia. Per quanto riguarda i servizi, così come prima parlavamo della situazione mondiale ed europea di crisi nel settore dei servizi, anche in Italia chiaramente è un settore che come dicevamo prima ha visto una grossa crisi. Un settore che ha visto un crollo del 47%, chiaramente portato in grandissima parte da quello che riguarda il turismo e i trasporti con un meno 56% su base anno. Purtroppo ovviamente chiusi tutti gli aeroporti, chiusi gli eventi, chiuso il turismo viaggi d'affari, chiaramente il settore dei trasporti e del turismo ha avuto questo crollo e l'unica cosa che si è salvata dal crollo sono le assicurazioni per quanto riguarda i servizi che hanno visto un più 6%. Ecco, comunque nonostante tutto il mercato dei servizi online vale ancora leggermente più di quello dei prodotti in Italia, quindi vale l'11% contro l'8% che avevamo visto precedentemente che riguardava appunto i prodotti. Quindi tutto lascia pensare che appena verranno meno le restrizioni anche questo settore così come quello dei prodotti andrà ad esplodere con tassi di crescita sicuramente a doppia cifra. Adesso abbiamo visto che sono aumentati la frequenza degli acquisti, sono aumentato gli italiani che acquistano online, ma capiamo bene di quanto sono aumentati questi italiani. Allora in blu vedete i dati di Fritia l'anno 2020 mentre in rosso vedete quelli di Fritia 2018. Gli utenti unici che sono appunto le persone che accedono giornalmente o mensilmente a il web sono aumentati su base giornaliera da 32 a 35 milioni di persone che ripeto sono quelle che accedono giornalmente all'online. Su base mensile invece sono aumentati da 42 a 44 milioni quindi 44 milioni sono le persone che su base mensile nel 2020 in Italia utilizzano l'online. Rispetto alla popolazione di riferimento quindi a tutti gli italiani questi numeri valgono il 59% quindi che sono gli utenti giornalieri che accedono online rispetto al totale della popolazione rispetto al 54 appunto dell'anno 2018 e il 74,7% rispetto al 71% dell'anno 2018 quindi vediamo che è aumentata molto il numero di utenti quindi di persone che giornalmente o mensilmente accedono appunto all'online. Questo è molto interessante è molto interessante capire che nonostante siano aumentati gli utenti il tempo dedicato all'online per persona sia giornaliero che mensile è diminuito quindi siamo passati dalle 3 ore 10 del 2018 alle 2 ore 43 giornaliere di oggi così come siamo passati dalle 75 ore mensili del 2018 alle 66 ore e 42 minuti di oggi ma perché questo? Cioè come è possibile che sia esplosa il settore dei servizi che siano esplosi gli utenti che usano online ma sia diminuito il tempo? Questo perché purtroppo è venuta meno tutta la parte legata ai servizi quindi tutta la parte legata alla protezione dei viaggi alla protezione degli eventi quindi la valutazione delle varie scelte che faceva sì che un utente comunque utilizzasse il web per prenotarsi appunto i viaggi e tutti i servizi che purtroppo a causa delle restrizioni oggi non può più fare abbiamo visto che sono aumentati i cittadini perché sono passati da 32 milioni di giornalieri a 35 e da 42 a 44 ma chi è aumentato veramente? Cioè quali sono i cittadini che sono aumentati di più e quali di meno? Questo è molto interessante molto interessante perché ci fa capire che se se vedete sempre in blu l'anno 2020 e il rosso 2018 sempre quanto riguarda le fasce d'età più giovani quindi 18-24 anni è rimasta praticamente invariata perché praticamente sono tutti gli utenti dai 18-24 anni che accedono al web come sono quasi tutti gli utenti che dai 25-34 accedono appunto al web quindi siamo 96,9% e 99% sono aumentate invece molto di più le fasce d'età da i 55-64 anni e gli over 65 lo vedete sia dal grafico sulla destra che appunto da le fasce d'età che vedete a sinistra quindi chi sono questi nuovi cittadini digitali? In realtà possiamo dire che sono gli over 55 sono quelle persone che prima appunto avevano la diffidenza personal online per quanto riguarda i pagamenti per quanto riguarda le poche competenze per quanto riguarda la mancanza d'offerta che invece adesso riescono a trovare quello che cercano hanno tolto tutte le diffidenze si sono digitalizzati quindi utilizzano con molto molta più frequenza l'online quindi è importante capire chi sono questi nuovi cittadini digitali italiani sono sostanzialmente gli over 55 e questo può essere un bene visto il mercato italiano perché in realtà la capacità di spesa purtroppo ad oggi ce l'hanno ancora le fasce d'età un po' più avanti con gli anni e quindi a livello di e-commerce questo non può essere che un dato positivo in tutti i settori comunque che sia servizi che sia prodotti c'è una nuova consapevolezza che questa crisi che è stata sì terribile e inaspettata ha fatto sì che l'online rappresentasse una possibilità di rispondere alle esigenze concrete quindi alle esigenze dei cittadini ma anche di garantire la continuità per il proprio business la crisi quindi ha portato molti consumatori come abbiamo visto ad avvicinarsi al mercato online e ad acquistare per necessità magari le prime volte però i comportamenti di consumo che sono nati durante questa pandemia le abitudini che diciamo il cittadino ha acquisito non si perderanno e diventeranno al contrario sempre più forti e quindi continueranno a influenzare le decisioni d'acquisto dei consumatori quindi sì ci siamo avvicinati online per la prima volta magari in questo periodo però quello che abbiamo imparato quello che abbiamo iniziato a fare continueremo a farlo e cercheremo sempre più soluzioni che ci permettono di continuare a farlo questa diciamo che per molte attività potrebbe essere l'ultima chiamata perché perché le aziende strutturate con più budget abbiamo visto che sono riuscite a fronteggiare meglio di altre le restrizioni dove sta il piccolo vantaggio e la piccola cosa positiva anche di questa pandemia che possiamo prendere e capire come utilizzare il fatto che ha portato molti cittadini a conoscere meglio le proprie città e a conoscere meglio le proprie attività commerciali perché purtroppo le restrizioni ci hanno portato veramente a riscoprire il nostro territorio questo deve essere veramente un'arma a disposizione delle attività economiche locali per riuscire a intercettare quelle che sono da un lato queste nuove esigenze di consumo dei cittadini mantenendo però e utilizzando il fatto che questa pandemia ha portato molti cittadini a scoprire e a riscoprire le attività del loro territorio quindi l'unione dell'online e l'unione dell'offline questo è su quello a cui bisogna puntare in questo momento diciamo la verità la decisione di andare online di portare la propria attività online non è né facile né scontata comunque e qui nessuno vuole assolutamente dire che l'online sarà la soluzione in questo momento a tutti i problemi no è uno strumento però che si è utilizzato nel modo corretto può aiutarvi a massimizzare e ciò che sapete fare meglio quindi a sfruttare quello che sapete fare la fidelizzazione dei clienti e mantenendo appunto i rapporti con la propria clientela ma veicolarlo in modo diverso e veicolandolo a più persone i problemi del mercato online sono sempre gli stessi a chi rivolgersi come gestire il proprio negozio magari la mancanza di budget una volta che ho creato il sito internet come faccio a popolarlo di persone quindi come ci porto il traffico come faccio a gestire i pagamenti online le spedizioni a chi mi affido devo abbassare i prezzi per competere posso lasciarli così quindi diciamo che sono molte le criticità o perlomeno le cose che bisogna sapere e affrontare quando si decide di riportare le proprie attività online ad esempio creando un proprio sito internet ma se esiste una soluzione capace appunto di unire la forza dell'online abbiamo visto e sfruttare questo trend che è in continua crescita e che sta esplodendo risolvendo anche quelle che sono le perplessità e i dubbi legittimi anche dei titolari nel decidere di portare online la propria attività quindi potendo fidelizzare i clienti potendo farlo senza l'utilizzo senza avere competenze specifiche nel web e senza avere budget a disposizione la soluzione che abbiamo studiato appunto è Biasap Biasap è una piattaforma di solidarietà gratuita per l'attività del territorio è un progetto che il mio socio Marco Giusto ed io abbiamo ideato quasi un anno fa è stato ha visto la luce a fine ottobre anche grazie appunto all'aiuto di collaboratori che provengono da tutte le le città del Veneto sostanzialmente ed è un progetto che vuole favorire gli acquisti e negozi di prossimità facendo cosa però accompagnando per mano i titolari quindi sia chi vende prodotti sia chi offre servizi o appuntamenti quindi senza lasciare dietro nessuno in questo processo di digitalizzazione che sia appunto inclusivo quindi che riguardi tutte le attività del territorio per sostenerle per accompagnare per mano i titolari verso appunto il futuro quali sono i tre pilastri di Biasap allora il primo è essere inclusivi quindi aiutare tutte le attività del territorio quindi sia chi vende prodotti sia chi offre servizi ma sia tutti i titolari le parità IVA che offrono anche magari appuntamenti mantenendo in vita le città e i centri storici come dicevamo prima noi di Biasap pensiamo a un online che sia a supporto della città e a supporto del titolare quindi che non vada minimamente a sostituirsi a ciò che il titolare sa fare bene ma vada a implementare e aiutarlo a svolgere meglio il suo lavoro cosa vuol dire vuol dire anche ad amplificare i rapporti umani e di fidelizzazione che ci sono tra clienti esercenti e che in realtà ad oggi rappresentano ancora il vero vantaggio competitivo dell'attività del territorio quindi Biasap che adesso vedremo operativamente come funzione è una piattaforma web inclusiva che ospita tutti che ospita alimentari cartolerie panifici fiorai quindi chi vende prodotti che ospita chi offre servizi quindi parrucchieri torrettature di animali ma anche tutte le parite IVA che magari richiedono appuntamenti è una piattaforma territoriale perché il cittadino andrà a scegliere tra l'attività del proprio comune della propria provincia potendo quindi trovare quelle più vicine a lui che vanno a soddisfare quelli che sono i suoi bisogni ecco potendo prenotare o vedremo come direttamente acquistare prodotti servizi o appuntamenti direttamente dagli esercenti del suo territorio beh quello di prima era un slide sulla rassina stampa abbiamo avuto appunto la fortuna che il progetto sia piaciuto e sia stato sposato da molti comuni da associazioni di categoria come appunto ricevamo prima con partigianato Vicenza e Digital Innovation Hub quindi questo ci ha diciamo fatto capire che eravamo nella strada giusta ma il fatto di essere nella strada giusta si evince soprattutto dai feedback molto molto positivi che riceviamo dai titolari delle attività che abbiamo aiutato a portare online e a digitalizzarsi che questa è la soddisfazione per noi veramente veramente più grande Biasa per questa città questo comune virtuale questa provincia virtuale che permette a tutte le attività del territorio di iscriversi gratuitamente o col proprio telefono o con la propria computer in modo veramente facile e da soli o col nostro supporto creare il loro mini sito internet quindi completo di tutto completo vedremo dopo di immagini orari geolocalizzazione con Google Maps collegato con i propri canali social collegato con il loro altro sito internet se già ce l'hanno dove mettere a disposizione o scegliere quali prodotti servizi appuntamenti mettere a disposizione per i cittadini del loro territorio nessuna trattenuta su ordini o su pagamenti nessun costo di iscrizione di registrazione il tutto appunto completamente gratuito per il titolare dell'attività andiamo quindi e andremo quindi poi operativamente fra pochissimi minuti a creare un mini sito internet personale per ogni attività in questo caso vedete c'è un parrucchiere il sito internet sarà ricompreso dentro questa piattaforma che è Biasap sarà ricompreso nella pagina del comune se il comune è tra quei comuni che ha scelto di sostenere il progetto ok e sarà anche ricercabile su Google ad esempio perché poi la pagina il mini sito internet verrà poi indicizzato anche su Google quindi sono diversi i modi in cui l'utente può venire a conoscenza del vostro sito internet sono diversi modi molto stanche a voi stanche a voi continuare ad aggiornarlo stanche a voi condividere i prodotti che caricherete qua dentro nei vostri canali social starà comunque chiaramente la promozione anche a voi aiutarvi con tutti gli strumenti che noi mettiamo a disposizione a condividere quella che è la vostra attività e a portare più clienti comunque a visitarlo quindi ci saranno le vostre immagini ci saranno gli orari ci saranno i prodotti offerti e il cittadino potrà prenotare come vedremo dopo prodotti servizi o appuntamenti direttamente a voi come funziona? allora una volta entrato nella piattaforma il cittadino sceglie la sua attività per categoria ci sono 34 categorie di attività per nome oppure può visualizzare quelle più vicine alla sua posizione dove sta l'obiettivo? dove sta il vantaggio rispetto a un comune sito internet? allora un sito internet agisce sulla base delle ricerche degli utenti quindi banalmente io sto cercando un panificio a Bassano del Grappa dico Bassano perché noi siamo di Bassano del Grappa e ASAP SRL di Bassano del Grappa che è la nostra agenzia e diciamo Google andrà a mostrarmi quelli che sono i panifici in questo caso che si trovano nella mia zona ok il vantaggio della piattaforma comunale e della città virtuale è che il cittadino va a scoprire anche attività che non conosceva ma soprattutto di cui non aveva magari la necessità perché cercando un panificio andrà a scoprire che c'è anche un negozio che offre non lo so serramenti e quindi visto che sta arrivando l'inverno decide di farsi fare un preventivo per rifare i serramenti e quindi può richiedere un preventivo sostanzialmente entrato per cercare un panificio andrà a richiedere un preventivo magari anche a una parità di un professionista della società per appunto rifarsi i serramenti ecco questa è ciò che succede anche nella vita reale camminando per la città dove io andando dal punto A al punto B passo davanti alle vetrine della mia città e sostanzialmente mi creo dei bisogni che prima non avevo come dicevo prima una volta entrato nella piattaforma una volta scelta per categoria per nome di attività e il negozio che sto cercando entro nel suo sito internet questo è molto importante noi non siamo un marketplace dove le persone trovano ricercano per servizio o per prodotto e trovano tutte le attività che offrono lo stesso prodotto no noi permettiamo ai titolari di creare un loro sito internet completamente una loro pagina che poi avrà anche un back end quindi avrà anche un'area riservata dove poterla modificare poter scegliere i colori mettere le immagini descrizione eccetera un proprio sito internet dove il cittadino andrà a scoprire l'attività a 360 gradi andrà a vedere le sue immagini andrà a vedere gli orari di apertura andrà a raggiungerlo con Google Maps andrà soprattutto poi a scoprire quali prodotti servizi appuntamenti il titolare ha scelto di offrire e quindi di mettere in vetrina sostanzialmente per i suoi cittadini scegliendo poi quindi il prodotto in questo caso si tratta di una torta come vedete dall'immagine di cui il cittadino ha bisogno andrà a poterlo prenotare quindi per il ritiro dentro il negozio oppure direttamente ad acquistare in anticipo tramite carta di credito se e solo se il titolare dell'attività ha scelto di abilitare questa modalità perché il coltello della parte del manico diciamo come vedremo dopo ce l'ha sempre e comunque il titolare dell'attività che potrà scegliere in autonomia tutte le caratterizzazioni del suo sito se fare consiglio a domicilio se collegarlo appunto per ricevere pagamenti elettronici o se semplicemente mostrare quello che offre permettendo al cittadino di prenotarlo e ritirarlo nel suo punto vendita sostanzialmente le modalità di ritiro possono essere molteplici di ritiro possono essere molteplici ci può essere c'è sempre abilitato il ritiro negozio cosa vuol dire che il cliente verrà nel vostro negozio a ritirare la merce c'è la possibilità per tutti i cittadini di avere di utilizzare le consegne a domicilio quindi quanti di voi magari anche per alcuni brevi periodi scelgono di gestire questa modalità di consegna possono implementarla scegliendo addirittura il raggio chilometrico di consegna e poi c'è anche la possibilità di indicare che si è aperto una spedizione perché dicevo sia una piattaforma territoriale però ciò non toglie che possa essere raggiunta da cittadini che stanno anche molto distanti da voi quindi se magari voi offrite dei prodotti siete degli artigiani offrite prodotti tipici che possono essere spediti l'utente può vedere se voi avete anche questa modalità tra quelle abilitate il cittadino ha un'area riservata anche lui dove può vedere tutti gli ordini che ha fatto può vedere appunto cosa ha ordinato dove l'ha ordinata e se appunto ha scelto di pagare anticipatamente con la carta di credito oppure se invece pagherà al momento a voi direttamente al momento del ritiro ripeto noi non abbiamo nessuna percentuale né in un caso né nell'altro quindi nel caso di pagamento tramite carta né nel caso di chiaramente pagamento a voi direttamente alla consegna ogni negozio quindi ognuno di voi avrà una sua area riservata dove vedrà un calendario degli ordini quindi verrà avvisato ogni qualvolta riceve un nuovo ordine verrà avvisato sia dentro l'area riservata sia via mail o anche via whatsapp e avrà un suo calendario degli ordini dove potrà vedere tutti gli ordini che sono stati fatti e cliccando sull'ordine vedrà la persona che l'ha ordinato cosa ha ordinato potendo sempre contattare il cliente per riprogrammare il ritiro riprogrammare la consegna modificare l'ordine fare upselling quindi magari vendergli qualcos'altro o semplicemente vendergli qualcosa che sembra più adatto alle sue richieste mantenendo quel rapporto di fiducia che è la base sostanzialmente del commercio locale ecco una volta che il cliente questo è molto importante riguardo ai pagamenti elettronici che ripeto non sono obbligatori ma se voi decidete di abilitarli una volta che il cliente vi ha effettuato la prenotazione e ha scelto di pagarvi anticipatamente sarete voi a dover dire sì ho il prodotto quindi sì pagami finché voi non abilitate non date l'ok a questo pagamento il pagamento al cliente non può essere fatto questo perché noi non possiamo presupporre non possiamo essere sicuri che tutte le cose che voi inserirete nel vostro sito siano sempre disponibili quindi se voi inserite qualcosa che è terminata che non è più assortita e ricevete una prenotazione per quel prodotto per quel servizio o un appuntamento appunto per quella per quella cosa voi potete sempre ricordare il cliente e non avete nessun problema di resi perché il cliente pagherà semplicemente quando voi verificherebbe di avere la merce e gli darete l'ok per il pagamento quindi questo è proprio fatto per anche aumentare la fidelizzazione se vogliamo tra cittadino ed esercente Tommaso sì scusami se ti interrompo arriva una domanda da Paolo ci chiede se si potranno fare campagne promozionali e inviare notifiche push a chi a chi ci ha contattato ok allora le campagne possono essere fatte voi quando man mano che caricherete i vostri prodotti servizi appuntamenti potete sempre condividerli sui vostri social network perché c'è appunto la possibilità di condividerli da lì c'è la possibilità di inserire nel vostro mini sito internet il vostro sito principale se già ce l'avete e tutti i vostri account social quindi diciamo la promozione non è a pagamento all'interno della piattaforma ma è diciamo fatta da voi a tramite magari l'invio via whatsapp tramite la condivisione sui social e quindi ci utilizzano questi altri strumenti sostanzialmente e la seconda domanda scusami no si parlava appunto di campagne promozionali e inviare notifiche push sì allora noi per quanto riguarda le attività utilizziamo i nostri account social per aiutarli anche a promuoversi quindi condividiamo i prodotti e le attività appunto che sono parte dell'iniziativa per dargli ulteriore visibilità riguardo le notifiche push allora voi avete la possibilità di contattare i clienti per quanto riguarda l'ordine limitatamente per quanto riguarda l'ordine quindi vi vengono passati i clienti e che può essere contattato per quanto riguarda l'ordine che ha fatto il cliente non per essere poi spammato da diciamo inserito in campagne newsletter o quant'altro certo che voi potete contattarlo appunto chiedergli poi se vuole essere inserito in questi strumenti se già magari voi utilizzate ecco abbiamo un'altra domanda Sabrina ci chiede scusami un attimo se il comune dove è sede l'azienda non ha aderito al servizio possiamo iscriverci ugualmente certo che sì allora in questo momento chiaramente non tutti i comuni hanno la stessa sensibilità verso il verso il problema no quindi noi non possiamo certo penalizzare le attività il cui comune non ha scelto di aderire alla piattaforma quindi tutte le attività possono registrarsi gratuitamente alla piattaforma Biasap adesso vediamo come e poi possono scegliere se mantenere il loro account gratuito o se vogliono investirci qualcosina si tratta veramente di un piccolo investimento passare a un account premium ma non è assolutamente obbligatorio già la versione gratuita veramente è fatta per darvi una mano e a livello di solidarietà anche se il comune non ha scelto di aderire alla piattaforma abbiamo anche un'altra domanda in questo caso se lo fa l'assessore Stangerlin che saluto quindi ecco le pubbliche amministrazioni sono presenti lo possiamo confermare chiedeva appunto se prevedete anche una shop call credo si riferisca alla possibilità di chiamare sì allora noi adesso questo è un processo di digitalizzazione nel senso non mi piace chiamarlo perché come appunto Matteo sa benissimo anche noi abbiamo continuato a sviluppare la piattaforma secondo quelle che erano le richieste e i feedback ricevuti dalle amministrazioni comunali partner e dalle singole attività quindi una delle cose che svilupperemo sarà appunto la chiamata appunto via whatsapp il tour virtuale del negozio che è una delle prossime cose appunto che abbiamo diciamo come nei prossimi sviluppi ecco in questo momento una volta ricevuto l'ordine il titolare può contattare il cittadino che ha ordinato la cosa limitatamente all'ordine attraverso il numero di telefono o attraverso la mail che ha indicato l'utente appunto una volta che ha effettuato l'ordine ok possiamo andare avanti quindi dicevo una cosa molto importante è anche la possibilità di modificare l'importo del pagamento prima di inviarlo perché questo perché magari successivamente all'ordine appunto viene contattato il cliente il cliente esatto viene preso un altro accordo oppure viene venduto qualcos'altro magari e quindi diciamo l'importo dell'ordine non sarà più di 40 euro ma magari sarà di 60 euro quindi veramente basterà modificare l'importo prima di inviarlo al cliente per il pagamento questo è sempre dalla possibilità anche perché no di fare degli sconti ma dà anche la possibilità di mettere l'importo esatto per molte attività che magari vendono al peso che magari appunto hanno diciamo degli scontrini che poi possono differire leggermente da quello che è diciamo l'ordine del cliente ecco questa è la soluzione giusta per ogni attività dicevo quindi per quelle che scelgono unicamente di avere uno strumento di visibilità per dire ok nel mio territorio io ci sono mi faccio trovare dei clienti per quelle che scelgono di caricare dentro anche i loro prodotti servizi appuntamenti e renderli prenotabili ricercabili e prenotabili dai loro clienti ma anche per quelle che scelgono di utilizzare tutta la potenza dello strumento e ricevere anche i pagamenti elettronici quindi veramente a seconda di del titolare a seconda di come sceglierete di gestirlo vi permetterà di utilizzarlo sostanzialmente su più livelli ecco in modo tale che sia adatto ad ognuno di voi avrete anche dentro la piattaforma la possibilità di scaricare un pdf con un codice qr da mettere fuori dal negozio per farvi trovare anche quando siete chiusi quindi magari se un cliente passa davanti al vostro negozio davanti alla vostra vetrina e vi trova chiusi puoi inquadrare il codice qr e atterrare direttamente sul vostro sito quindi diciamo senza passare per la piattaforma perché il nostro obiettivo qual è? è quello di dare a voi tutta la visibilità di cui sostanzialmente ha bisogno la vostra attività questa sostanzialmente è una soluzione vincente sia per i negozianti che per i clienti per i negozianti permette di mantenere e incrementare i rapporti di fiducia servendo un numero molto maggiore di clienti evitando magari code e tempi d'attesa ecco e aumentando la visibilità online e farsi conoscere appunto da chi ancora non ci conosceva per quanto riguarda invece i clienti permette appunto di soddisfare quelle che sono ormai le nuove abitudini di consumo che sono emerse di mantenere i rapporti sociali comunque con i propri negozi di fiducia e scoprire nuove attività economiche del proprio territorio e magari perché no ricevere anche la propria spesa a domicilio se gli esercenti decidono di abilitare questa modalità perché abbiamo scelto un'app come logo questa è l'ultima slide poi andiamo alla parte pratica che è più divertente le api sono sostanzialmente la nostra visione come le piccole attività del territorio perché per molti sono addirittura quasi dannose ecco però molti non sanno che senza le api che sono sostanzialmente l'animale più importante per l'economia mondiale l'intera economia crollerebbe ecco quindi la nostra visione se le attività del territorio smettessero di esistere l'intera economia crollerebbe così come crollerebbe se le api smettessero appunto di esistere adesso vi mostro praticamente come funziona la piattaforma allora come dicevo prima la piattaforma è su più livelli ecco c'è per i comuni appunto che hanno scelto diventare parte del progetto loro hanno una loro pagina comunale dove mandare tutti i loro cittadini e dove far visualizzare tutte le attività del loro territorio se non le sto mostrando una ad esempio questa pagina è scaricabile anche come applicazione sul telefono dei cittadini quindi i cittadini ce l'hanno veramente a portata di click vedete queste sono tutte le attività del territorio divise per categorie che sono presenti possono essere filtrate quindi schiacciando sulla singola attività io vedo solo le attività che appartengono a questa categoria vedete che sono sia di prodotto che di servizio appunto e poi qui vedete tutte le attività del territorio in questo caso è un comune di Isola Vicentina della provincia scegliendo ad esempio Estetica Sabrina e visualizzando quindi il sito internet di Estetica Sabrina creato come faremo adesso dentro la piattaforma vediamo le immagini il logo le immagini di copertina una descrizione dell'attività gli orari di chiusura dei vari prodotti che scelto di mettere in vetrina ecco il logo del comune partner quindi comunque ci arrivi l'utente e vede sempre il logo del comune partner quindi sia che ci arrivi da Google sia che ci arrivi dalla piattaforma comunale sia che ci arrivi dai social network perché magari l'attività questa utilizza i social per condividere i suoi prodotti sarà sempre il logo del comune partner gli orari di apertura le indicazioni sardali con Google Maps gli account social Instagram LinkedIn dell'attività e poi le categorie di servizi in questo caso che è stato in un centro estetico che l'attività ha scelto di offrire io adesso è la prima volta che vedo questa attività quindi vedo dei servizi ci clicco su un servizio e vedo cosa posso selezionare la quantità vedo il prezzo posso inserire delle note per il negozio vedo una descrizione in questo caso stiamo facendo pubblicità a queste attività e poi vedo una galleria fotografica in questo caso ho messo una foto sola però possono esserci più foto e posso sostanzialmente quindi inserire la quantità ripeto adesso vediamo la versione da desktop però c'è anche la versione da app quindi inserisco la quantità la aggiungo al carrello e se clicco qui procedo ecco io non procedo in questo momento perché se no chiaramente al titolare di estetica Sabrina arriva la notifica della prenotazione se l'utente ha scelto di in questo caso questa estetica non l'ha scelto di integrare i pagamenti elettronici potrò anche già pagare anticipatamente appunto dopo l'ok dell'attività che anche questo come vi ho spiegato è molto importante quindi questa è la pagina comunale quello che faremo oggi invece che vi mostrerò oggi è appunto la città virtuale di Biasap se riesco a che è questa questa è la piattaforma invece dove tutte le attività sono presenti può essere possono essere ricercabili per comune cliccando qui si vedono quelle più vicine alla posizione in cui ci troviamo in questo momento oppure possono essere selezionate per posso cercare l'attività fra i diversi comuni e le diverse province quindi se io adesso posso cercare un comune oppure posso fare cerca attività se io prego su cerca attività posso selezionare la provincia mettiamo provincia di Vicenza vedete queste sono tutte le province in cui ho almeno un'attività registrata posso selezionare quelle che fanno consenso a domicilio magari infatto Tommaso scusami se ti interrompo abbiamo ricevuto infatti alcune domande da parte dei partecipanti dove ci chiedevano appunto quali comuni della provincia di Vicenza avessero aderito se ce ne sono sì e allora della provincia di Vicenza l'unico che ha aderito in questo momento è appunto Isola Vicentina e della provincia di Verona della provincia di Treviso ce ne sono molti altri purtroppo nonostante noi siamo di bastante grappa e la provincia di Vicenza è stata una di quelle di cui hanno aderito in questo momento meno comuni però è una cosa che noi abbiamo lanciato a fine ottobre come dicevo e quindi già abbiamo dei contatti con alcune amministrazioni che magari appunto sceglieranno di aderire e di proseguire con il progetto ecco che è la nostra chiaramente speranza questa comunque è la piattaforma beasap.com beasap.com la potete scaricare come applicazione andando dal sito quindi beasap.com vi verrà appunto chiesto di salvarla solo sul vostro telefono e posso ricercare appunto per provincia abbiamo messo provincia di Vicenza qui io posso selezionare un comune oppure posso vedere tutte le attività della provincia di Vicenza vedete qui le posso vedere tutte se no le filtro come prima per attività in questo caso scegliamo un'altra attività mettiamo società agricola posso andare alla pagina oppure posso direttamente scegliere uno dei prodotti che ha messo in vetrina se io vado alla pagina vedo appunto la società agricola vedo i prodotti in vetrina e posso scegliere i prodotti che abbiamo fatto prima sostanzialmente da prenotare o direttamente acquistare adesso andrei a mostrarvi come si fa a creare questa pagina sembra difficile è una veramente un mini sito internet completo di tutto ma in realtà è molto molto facile crearlo allora bisogna andare su biasap.com che è questa home page che abbiamo visto prima sotto c'è scritto sono un negozio e premete su sono un negozio leggete questa pagina di spiegazioni che vi spiega appunto il progetto ma ve l'ho già raccontato quindi potete saltarla mettete il vostro il vostro nome il vostro cognome la mail un telefono che abbia collegato il numero di whatsapp perché è importante perché poi riceverete gli ordini notifiche degli ordini anche sul numero whatsapp e serve anche durante la fase di attivazione in nome dell'attività allora adesso creiamo velocemente un centro estetico perché un centro estetico perché è quello che in realtà può offrire sia della venta di prodotti come non so creme trattamenti sia la venta di servizi come magari massaggi ossia magari offre degli appuntamenti cioè che non hanno un prezzo perché varia a seconda delle esigenze del cliente quindi ecco un centro estetico magari è quello che diciamo può offrire diversi tipi di servizi qui lo chiamiamo chakra 16 mettiamo una password mettiamo un indirizzo e clicchiamo sul suggerimento sotto questo è molto importante per appunto Google Maps continuiamo che la password l'abbia scritta giusta come ci è conosciuto qui potete premere quello quello che volete passa parola mettiamo il settore dell'attività vediamo quindi un centro estetico lo mettiamo su questo parrucchiere estetista orbiere ho preso visione e invia adesso vi sarà arrivata una mail a cui potete accedere e cliccare su confirm indirizzo mail oppure basterà andare su admin punto be asap punto com faccio log out un secondo ecco qui e arriverete a questa pagina qui quindi sia che arriviate dalla mail sia che arriviate scrivendo admin punto biaza punto com e fate sulla pagina del login che vi permette di iniziare a creare l'attività mettete la mail che avete messo prima mettete la password e prendete su entra adesso dovete scegliere il vostro url cos'è l'url? è l'indirizzo del vostro sito quindi vi consiglio di inserire il nome della vostra attività quindi io metto l'attività premete su anteprima vi corregge l'url se l'avete scritto magari sbagliato quindi se avete messo degli spazi degli accenti così che sono caratteri che non vanno messi negli url dei siti ve li correggio in automatico premete avanti potete scegliere una nuova password o lasciare la precedente potete scegliere se far visualizzare l'indirizzo mail che avete messo il numero di telefono che avete messo di whatsapp quindi se renderlo visibile nel vostro sito se inserire un numero di telefono fisso e poi inserire la ragione sociale e la parita IVA in questo caso non me la ricordo quindi mettiamo un numero a caso e poi potete iniziare a collegare i vostri account social qui ad esempio dovete inserire ciò che trovate sul sito di Facebook dopo lo slash ma c'è scritto comunque qui sotto ad esempio la nostra pagina Facebook si chiama Biasap Italia quindi scrivo se avete la pagina Instagram in questo momento non mi ricordo come si chiama però basterebbe scriverlo qui e se avete un sito lo scrivete appunto nell'ultima riga completo attenzione come è scritto qui di HTTP o HTTPS perché alcuni siti sostanzialmente sono sicuri quindi in HTTPS e altri no quindi a seconda se il vostro sito sia in HTTP o in HTTPS dovete scriverlo qui questo è il nostro sito e qui c'è il settore che è già impostato quello che avete messo prima e qui c'è la possibilità di inserire le vostre immagini allora cliccando qui sopra vi si aprirà la cartella sostanzialmente del computer dove voi potete scegliere le immagini da inserire basterà scegliere un'immagine cliccare su apri e poi potrete addirittura ridimensionarla tagliarla e renderla adatta la vostra copertina la prima immagine ha una forma rettangolare come avete visto la seconda il logo dovete metterlo quadrato quindi noi mettiamo questo basterà come prima cliccarci potete appunto ridimensionarlo sbagliato ecco qui e premere ritaglia adesso inserite un payoff un payoff è una frase che vi contrabistingue quindi non so l'arte dell'estetica inseriamo una descrizione dell'attività il miglior centro estetico di Bassano del grappa con le migliori ok scegliete se fate orario di apertura continuato o spezzato e scegliete il colore del vostro sito dopo tutto quello che facciamo adesso poi potete cambiarlo tranquillamente premete avanti ora la parte più noiosa è quella di indicare gli orari di apertura e di chiusura quindi in questo caso mettiamo domenica chiuso il centro estetico lunedì solitamente chiuso mettiamo gli orari di apertura dalle 9 30 alle 20 dalle 9 alle 20 tutto questo potete farlo da computer o anche da telefono potete farlo in autonomia appunto o con il nostro aiuto chiaramente per le amministrazioni che sono partner lo effettuiamo noi in aula chiaramente con le attività economiche fate consegna a domicilio qui potete scegliere se fare o meno consegna a domicilio nel caso scegliate rifarla voi potete selezionare anche il raggio chilometrico di consegna mettiamo 19 km potete inserire delle note sulla consegna a domicilio e un costo di consegna mettiamo 2 euro se fate spedizione anche via corriere posta basterà premere sì e poi premete avanti ecco qui questa è l'unica fase su cui dovete fare un pochino di attenzione ma perché perché ognuno di voi può scegliere come strutturare il suo inventario di prodotti attraverso categorie e l'inserimento dentro le categorie dei vostri prodotti servizi o appuntamenti allora cosa sono le categorie le categorie sono quelle che racchiudono appunto prodotti servizi o appuntamenti pensate a un menù del ristorante per fare un esempio le categorie possono essere antipasti primi secondi e dessert dentro antipasti andremo a caricare patantine fritte olive ascolane affettati ok dentro i primi andremo a caricare tagliolini alla lepre picci con ragù cinghiale ok quelle sono le categorie dentro le categorie quindi vanno tutti i prodotti tutti gli antipasti tutti i primi tutti i secondi ok un centro estetico che categoria può avere ad esempio la prima può essere prodotti dello shop perché magari vende dei prodotti proprio basterà scrivere prodotti dello shop e premere avanti adesso mi chiede dentro la categoria prodotti dello shop cosa voglio inserire in questo caso inserirò un prodotto quindi basterà cliccare sul prodotto mettere il nome ad esempio lo chiamiamo crema a mani lo inseriamo nella categoria prodotti dello shop che è l'unica che ho creato in questo momento vedete metto un prezzo 23 euro scelgo una tipologia cioè come lo vendo lo vendo alla confezione posso inserire una descrizione quindi crema mani alla lo è vera posso inserire un'icona e posso caricare fino a tre immagini del prodotto adesso magari ne carico una come prima basterà cliccarci sopra e la si carica e premo avanti questa è la possibilità che appunto abbiamo scelto di dare l'attività di integrare i pagamenti elettronici non è obbligatorio farlo adesso si può fare anche dopo nella propria riservata e la cosa importante da sapere appunto è che se un cliente sceglie di pagare anticipatamente lo può fare se voi avete integrato sum up che è una partnership che abbiamo fatto con noi appunto di Biasap con sum up perché è un servizio che per voi non ha nessun costo fisso non ha nessun costo di registrazione e che voi pagate a sum up ripeto non a noi una piccola percentuale su ogni importo che vi viene accreditato direttamente nel vostro conto corrente quindi diciamo sum up è una banca europea sostanzialmente che si fa la tramite e permette ai clienti di pagarvi con qualsiasi tipo di carta ecco non ha costi fissi non ha costi di registrazione semplicemente una piccola percentuale sui soldi che voi scegliete di farvi accreditare sul vostro conto corrente qui è scritto tutto comunque quindi potete leggerlo è veramente molto facile se avete già un account perché molte attività ce l'hanno già a sum up integrato basterà fare il login con sum up mettere la vostra mail e la vostra password e sarete già diciamo a posto altrimenti vi registrate ci vogliono veramente un minuto ripeto è gratuito altrimenti premete avanti per proseguire l'impostazione del negozio ecco qui adesso in questa pagina qui è l'ultima pagina qui vi viene generato il pdf personalizzato quindi che è quello che avevamo visto prima ossia il file col codice qr da poter attaccare fuori dal vostro negozio e rendervi quindi sostanzialmente aperti tutto tutto il giorno ecco perché l'utente poi cliccando qui inquadrando con la fotocamera potrà atterrare direttamente sul vostro negozio e dovete inserire qui dentro il codice di conferma che vi arriverà via whatsapp al numero che avete inserito nella prima schermata di registrazione è un codice di quattro cifre presso controllo se mi è arrivato sì ecco qui e premete avanti ecco qui questa è l'area riservata del vostro sito un'area riservata che si divide in calendario degli ordini ossia dove voi vedrete man mano che vi arrivano gli ordini qui una campanellina con il numero di ordini arrivati cliccando sul giorno corrispondente la pagina andrà giù e vedrete tutti gli ordini di tutte le persone che appunto hanno prenotato i vostri prodotti servizi o appuntamenti quindi questa è la prima la prima parte del calendario dentro prodotti avete un menu che si divide in prodotti e categorie allora voi potete caricare nuovi prodotti dentro la categoria che avete già inserito in questo caso se vi ricordate abbiamo inserito solamente una di categorie che è prodotti dello shop quindi se noi clicchiamo su prodotti possiamo andare a vedere il prodotto che abbiamo caricato e modificarlo eventualmente ok se non voglio modificarlo invece voglio inserire un altro basterà fare inserisci nuovo indicare in questo caso magari sempre un prodotto inseriamo un altro prodotto che è non so make up lo inseriamo nella categoria prodotti dello shop che è l'unica che abbiamo creato inseriamo un prezzo 43 euro inseriamo una tipologia come prima al pezzo una descrizione make up professionale scegliamo un'icona infiliamo un'icona mettiamo 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 questa e poi carichiamo come prima le immagini le immagini non sono obbligatorie ma chiaramente aiutano molto e premiamo salva adesso voglio creare un'altra categoria perché perché come centro estetico io non vedo solo prodotti ma ovviamente ho tutta la parte dell'estetica quindi cosa faccio sono le menu principale ok clicco su prodotti clicco su categorie questa volta e vado a inserire una nuova categoria fino adesso attiva solamente questa prodotti dello shop io vado ad inserire un'altra la chiamo in questo caso estetica e premo salva poi posso creare un'altra categoria e la chiamo spa e premo salva adesso dentro le categorie che ho appena creato cosa faccio le vado a popolare popolare di un prodotto o di un servizio in questo caso vado a inserire un servizio dentro la categoria estetica quindi magari metto trattamento viso la inserisco vedete dentro la categoria estetica in questo caso i prodotti e i servizi hanno un prezzo gli appuntamenti invece non devo indicare nessun prezzo quindi se trattamento viso scelgo di inserirlo di farlo prenotare come forse un appuntamento quindi senza perché non voglio identificare un prezzo io posso inserirlo come appuntamento se invece voglio dire anche quanto costa lo inserisco come servizio qui lo metto come servizio metto un prezzo trattamento viso a 29 euro metto una descrizione massaggio e trattamento viso ringiovanente posso inserire un'icona anche se non è obbligatorio neanche l'icona posso mettere un'immagine come prima e premo salva adesso aggiungo ad esempio un altro prodotto dentro estetica l'ultimo mettiamo un appuntamento così li abbiamo messi tutti scriviamo manicure io non voglio dire quanto costa la manicure ai miei clienti e quindi noi si riesco come appuntamento lo metto dentro estetica quindi in questo caso vedete la categoria spafio adesso non ci abbiamo caricato niente posso mettere un'icona anzi in questo caso non la metto così vi mostro la differenza e metto un'immagine e premo salva adesso che cosa abbiamo creato fino adesso bella domanda torno su ordini vado sotto 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 e premo su guarda la tua attività online questo è il nostro sito internet che abbiamo creato in questo momento abbiamo messo questa immagine come immagine di sfondo abbiamo messo il logo abbiamo indicato gli orari abbiamo indicato ho messo una piccola descrizione posso condividere questo sui social network abbiamo messo l'indicazione di stradale di webmaps gli orari i contatti è collegato a facebook il nostro sito internet il raggio di consegna e poi abbiamo creato due categorie estetica e prodotti dello shop dentro la categoria estetica abbiamo caricato trattamento viso e manicure da lì la manicure c'è la M iniziale perché abbiamo scelto di non caricarci di concina dentro prodotti dello shop abbiamo caricato crema mani e make up ad esempio il cliente vuole cliccare su make up vuole prenotare make up può selezionare la quantità può inserire delle note per il negozio guardare la galleria fotografica e aggiungere al carrello procedere poi con l'acquisto inserendo solamente per la prima volta i suoi dati e scegliendo anche il giorno tra quelli che noi abbiamo inserito come giorni di apertura quindi è molto importante che voi i giorni di apertura siano effettivi effettivamente quelli e potendo scegliere tra ritiro presso il negozio che è sempre abilitato consegna domicilio perché noi abbiamo scelto come centro estetico di consegnare entro 19 chilometri oppure spedizione in questo caso premiamo ritiro poi il negozio selezioniamo per il giorno 20 indichiamo che andiamo a ritirarlo alle 14 solamente la prima volta completiamo con i nostri dati da utente che poi resteranno salvati quindi gli acquisti saranno molto più veloci e premiamo concludi per confermare questa ordinazione tornando al sito internet alla nostra riservata appunto vedete questa iconcina rotonda è quella che vi dà la possibilità di modificare tutto quello che abbiamo inserito fino adesso quindi cliccando sull'area rotonda potete modificare le immagini di copertina il logo il colore della pagina quindi scegliere quella che vi piace di più il payoff quindi diciamo il vostro slogan il vostro motto e scegliere quali contatti far visualizzare se cambiare la password oppure cliccando qui su area consegne cambiare gli orari di apertura scegliere un altro raggio di consegna oppure disabilitarle scegliere se abilitare o disabilitare le spedizioni via posta e poi ad ogni modifica premere salva dentro quest'area qui voi potete sempre scegliere di integrare sum up e quindi permettere ai vostri clienti di pagarvi anticipatamente con carta di credito questa è la pagina che avevamo visto in precedenza sostanzialmente ed è quella appunto che vi permette di collegare il vostro account sum up se già ce l'avete oppure di crearne uno iscrivendovi gratuitamente appunto a sum up e poi avendolo collegato col vostro sito internet questa è una pagina di condivisione che vi permette appunto di condividere questo progetto con gli altri titolari dell'attività che conoscete magari con il vostro vicino per permettere anche a lui di farne parte di diventare appunto di portare la sua attività online e di iscriverla appunto gratuitamente all'interno della piattaforma appunto di solidarietà via ASAP quindi diciamo questa è un overview molto molto veloce di quello che poi è la vostra area di modifica sostanzialmente man mano che fate le modifiche andrete a vederle online cliccando su guarda la tua attività e vedrete appunto la vostra attività online una volta che l'avete attivata dove si trova la vostra attività la vostra attività si trova sulla home page via asap.com ricercabile per comune per provincia oppure per categoria si troverà poi anche su google appunto perché poi verrà necessità anche su google la vostra pagina e se il vostro comune appunto ha scelto diventare partner sarete presenti nella pagina comunale che sarà appunto come quelle che abbiamo visto velocemente per degli altri comuni che sono che sono partner quindi e beh questo è adesso lascerei un quarto d'ora spazio qualche domanda se magari avete così sì allora dunque c'è arrivata una domanda di l'ho vista poco fa di Nicolo il quale ci chiede come avviene il posizionamento su google dei siti creati su ubiasa questa è una domanda credo molto molto intelligente certo allora chiaramente l'inizitazione su google non è automatica noi la verifichiamo comunque dopo da google search console e avviene sostanzialmente perché andiamo a creare una pagina che non è un dominio di terzo livello quindi chiamato sottodominio ma è sostanzialmente una pagina che voi avete e di cui avete appunto anche l'indirizzo che è biasa.com slash il nome della vostra attività o il nome dell'URL che scegliete a momento dell'attivazione sostanzialmente che appunto io consiglio sempre di mettere il nome della vostra della vostra attività e diciamo voi potete aiutarla chiaramente popolandola e continuando a modificarla e condividendola magari sui vostri account social e magari inviandola via whatsapp appunto a quelli che possono essere i vostri clienti e la vostra è già la vostra base appunto di di follower se avete e un'altra bella domanda ci arriva da Elena ci chiede se gli appuntamenti si possono collegare a google calendar allora in questo momento non c'è l'integrazione di google calendar con gli appuntamenti questa è una cosa però su cui in realtà stiamo quasi già lavorandoci ecco non è una cosa che abbiamo in mente di fare tra una settimana però è una cosa che dovrebbe essere tra le possibili modifiche che stiamo valutando appunto per riguardando solo gli appuntamenti ecco ok poi Cristina ci chiede ristoranti e bed and breakfast sono adatti per questa piattaforma allora ristoranti assolutamente sì proprio perché è una delle attività sostanzialmente che di cui ne abbiamo anche di più ecco a livello numerico quantitativo perché chiaramente si presta all'asporto si presta alla prenotazione ha la possibilità di gestire il tuo il tuo menu quindi le tue categorie secondo il tuo menu quindi diciamo rendere proprio il tuo sito internet molto aderente con quella che è appunto la tua attività e per quanto riguarda il bed and breakfast allora per le attività di hotellerie insomma di bed and breakfast la prenotazione in questo caso essendo che ci sono già degli strumenti come Airbnb booking che sono che gestiscono le prenotazioni che vengono già integrati tra le varie piattaforme con disponibilità delle camere questo strumento può essere utilizzato sì per portare gli utenti nel vostro sito internet che già sicuramente ce l'avete o nel vostro profilo di Airbnb quindi collegandolo per portare poi traffico a quello che è magari il vostro sito principale il vostro profilo e far da lì le prenotazioni ecco perfetto allora dunque Sabrina ci fa una domanda ma la metto in coda e poi dopo vi spiego perché nel frattempo Marco Di Prima del comune di Bassano del Grappa ci chiede come fanno i comuni ad aderire al progetto e ciò cosa comporta allora i comuni aderiscono al progetto decidendo di dare una mano ulteriore per le attività diciamo che le attività appunto hanno la possibilità di creare tutto questo che abbiamo visto in modo completamente gratuito perché avete visto che non abbiamo inserito nessun tipo di carta in credito da nessuna parte quindi capite che è in modo completamente gratuito le attività i comuni che scelgono di aderire diventare parte del progetto in più hanno una pagina comunale quindi la pagina diciamo che va a portare traffico sostanzialmente va a portare i cittadini in quella pagina piuttosto che nell'home page diciamo di Biasap rende tutte le attività del comune come premium anche all'interno della pagina Biasap.com quindi dà una visibilità maggiore alle sue attività e soprattutto diciamo noi aiutiamo i comuni anche nella diffusione del progetto con campagne di comunicazione per portare traffico dentro la pagina comunale attiviamo le attività economiche all'interno di serate dedicate alle attività di quel comune quindi le supportiamo sostanzialmente one to one e diciamo diamo tutta una serie di servizi ulteriori appunto ai comuni che sono partner poi questa è una cosa che va magari scrivete a Matteo e poi entriamo in contatto così che posso dare informazioni più dettagliate ecco allora giusto per dare giustamente una risposta a Sabrina ecco questo non è il contesto giusto per parlare di costi perché questo è un evento diciamo che vuole diciamo può porre un cono di luce su le opportunità che ci sono per gli esercizi naturalmente voi potete contattare poi Tommaso per approfondimenti e poi vedremo insomma se i comuni valuteranno l'opportunità di aderire al progetto Tommaso vuoi lasciare il tuo contatto il tuo indirizzo email allora è beasapit lo scrivo magari scrivile in chat ok ti faccio io una domanda questo il lavoro che avete fatto posso interrompere la condivisione ah certo certo ok così faccio il primo ok ho scritto nella chat la mail perfetto giusto ok se non sbaglio la vostra applicazione ha avuto dei riconoscimenti ricordo ricordo bene sì sì diciamo che noi non abbiamo investito proprio perché non è un progetto è un progetto secondo noi che doveva riuscire a essere trasmesso solamente con la forza dell'idea ecco e quindi senza alcun tipo di investimento ma il successo doveva essere decretato da semplicemente dalla funzionalità e dal fatto che poi ne venisse adottato ad oggi abbiamo più di quasi 500 attività che hanno creato il loro sito internet con Biasap e quindi siamo molto felici ce ne saranno molte altre a breve perché ci saranno altri comuni interessati anche il presidente Zai ha dato visibilità al nostro progetto in una fase iniziale e anche di questo siamo stati molto contenti abbiamo avuto anche diversi contatti poi con con la regione che ci ha indicato anche i comuni come possibili partner del progetto ecco e quindi ci ha un po' indirizzato anche verso questo perché i comuni effettivamente sono quell'entità che va a gestire tutte le attività quindi tutte le attività che offrono servizi tutte le attività che offrono prodotti tutte le parite IVA quindi diciamo qualcosa che sia inclusivo cioè come nella nostra visione che non lascia indietro nessuno ma che possa essere diciamo non lasciare indietro nessuno ma accompagnare per mano tutte le attività in questo processo di digitalizzazione grazie bene c'è qualche altra domanda se volete ancora due minuti e poi chiudiamo sembra di no comunque il contatto di Tommaso lo avete avete la possibilità di contattarci sul sito del progetto Pallades dove avrete una visibilità su tutte le iniziative già programmate e quelle che programmeremo prossimamente fra l'altro aprile è un mese particolarmente denso di appuntamenti ma in realtà lo saranno anche i mesi successivi bene allora ringraziamo ringraziamo Tommaso per l'ottimo intervento no vi ringrazio vi ringrazio voi ringrazio anche Matteo Pallades e Digital Innovation Hub per l'opportunità che ci ha dato perché appunto parlo anche al nome di Marco e di tutto il nostro team di collaboratori che lavorano costantemente a questo progetto per continuare a offrire nuove possibilità a seconda dei feedback questo è un lavoro che facciamo tutti assieme sostanzialmente è un progetto di solidarietà che portiamo a mani tutti assieme l'obiettivo deve essere comune ed è questo appunto che ci piace che abbiamo ritrovato anche nel progetto Pallades appunto bene ecco una domanda molto 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 importante che ci pone Tiziana e arriveranno gli avvisi via mail sui prossimi appuntamenti chiedo a Elena di darmi un supporto in questo se vuoi Elena puoi anche usare il microfono oppure scrivici sulla chat comunque immagino di sì immagino che venga mandata una mail ah ecco potete iscrivervi alla mailing list sul sito di Pallades www.pallades.it Giovanni ci chiede se confermiamo che sia possibile partecipare anche per i titolari di attività appartenenti a comuni non ancora partecipanti ma certo che sì ci sono penso 15 province e non so quanti comuni che sono già di attività di comuni appunto che non sono partner ma che sono iscritte a Biasa quindi anzi anzi siete voi proprio a aiutarvi e aiutarci a diffondere questo progetto condividendolo con chi è vostro vicino magari e incentivando e dando la possibilità anche a lui di iscriversi quindi questa è una cosa che dobbiamo fare tutti assieme ecco più attività sono iscritte più cittadini frequentano la piattaforma più visibilità avrete anche voi quindi è qualcosa che appunto anzi dobbiamo dare di diffusione tutti assieme bene ottimo grazie a tutti allora e una buona serata grazie mille grazie per l'opportunità ciao Tommaso grazie ciao Matteo grazie a tutti 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 grazie a tutti